I don't know why, chi sei io? Eh, so io, so. Possi ne ammazzar ben mai te riconosciuto, so io, Ivano Trenta da Roma. E Ivano Trenta voleva mandare un grande messaggio di pace e fraternità a tutti i gruppi rap d'Italia, fanculo chi mette i bastoni in mezzo alle ruote dell'hip hop, e ricordo 15 anni fa in una discoteca di Roma, Il Veleno, creai la mia prima canzone, anzi partorì, il mio primo rap intitolato Serenata Rap, che poi mi è stata pagiata, possi ne ammazzarlo da un certo giovanotti, ma non fa niente. Pace e rap, fratelli. Vi lascio con un, diciamo, freestyle simpatico. Siete galli, regà? Siete galli? Roba coatta, insieme a Tuli e con Pali, Erpiotta, DJ Square, Giga Scassi, Devole. Ma adesso sei improvviso un po' qui a Mondo Radio con Murua 69. Ah, capisci il nome? Tuli, diretto, ti sparo il freestyle from my man, Murua 69. La radio è il mondo, QRI ti sfondo, regolare lo sai che giorno per giorno mi esprimo. In questo modo, regolare godo, il nome resta Tuli, non ti masturbare che diventi cieco perché il mio stile è particolare. Saluto Square, eppure la mia commare, Tuli, insieme a Piotta e i suoi compari. Tuli, con il flow, ecco Erpiotta. A Radio Mondo, già te l'ha detto, Tuli, sai che sfondo insieme a Squara, sempre insieme come Terence Hill e Bootspencer, un solo giubbetto Ellie Hansen. Fringy, fringy, come la lambada, movite come pischie, senti il pischiello della strada, come improvvisa rime su rime, con il flow che ciò. Quando arrivo caccio il pom pom, sei i pop raga, buia calo, sai che sei come Erpiotta e quindi Erpiotta non se può fermare. Non se può fermare Erpiotta, mo' con giga scasi, voglio, nella zona, mo' trasi, trasi, bella, mondo radio, riempio le metriche come i miei fan su uno stadio, voglio, senti il flow, modo, intrinseco, sopra il beat, modo, voglio, più semministico, direttamente da Matera, il compare, mo' varia, sopra il beat, mo' crea il divario, sai com'è che sopra il beat io vado perfetto, ammetto di essere il migliore nella situazione che do, mo' mo' con Devon perciò, che mi segue a ruota, sai com'è il compare, mo' non perdona. Regolare che funziona, il compare Devon Martinez, assieme a mia zia Ines, hai capito la storia, come va avanti, si compare stanno qui, mo' tipo quanti, semo, la stanza è piena, piena di beats, regolare che sto qui, con gli altri MC's, roba coatta, roba che spacca, giù dalla capitale, roba che sale, sta a capì. Sta a capì, piscchè, quanti semo, giù, direttamente da Romzù, insieme a roba coatta, DJ Squarta, Square, Erpiotta, in arte, Frank Lupo e Johnny Malandra, in missione con il resto della banda, la banda del trucido, e questo è solo un capitolo della lunga saga, e il prossimo sarà roba coatta, flaggello di Dio. Bella a tutti gli MC che sono intervenuti massicciamente da Romzù, e un bella a tutti quelli che per vari motivi non ce stanno, ovvero DJ Stile, Sebby Ice, One Nut, Ice, e poi il Cans, Porno King, rappresena per i porno rockers, e tutto il resto di Hateful Magazine, e dei TRV, ovvero Suco e Joe. E mo' prima d'anna via, una cosa da te ho proprio da di, a porciaro, te che copi le cassette, roba coatta, e poi te le spigni, ma dimmi, ma che dovemo fa? Ma roba coatta, ste mano, un dote deve mette, ma sai che te dico, ma ti è te quei quattro spicci, ma almeno abbi il buon senso che non te fa vede, anzi, ma vedi danna affanculo, ah.